Tunisiani oggi giochiamo alla caccia al tesoro con i miei amici allora vi spiego praticamente Chiara mi ha rubato il piccone che schifo che fai Chiara veramente e me l'ha nascosto in giro qua nel villaggio del vanilla e io io devo trovarlo con i suoi suggerimenti lei mi dice fuoco se mi avvicino e acqua invece se sono lontano per esempio se il piccone è quando ci sei proprio esatto non si è capito niente ma fai se per esempio questo fiore il tesoro che non è il tesoro ora sono fuoco invece se vado sono acqua se vado indietro quindi esatto adesso oceano proprio oceano assolutamente oceano allora Chiara vediamo un attimo la direzione ok direzione no 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 mi devi dire fuoco eccetera la scelgo io tipo da questa parte com'è ok vai verso il fuoco ok perfetto molto molto distante il fuoco ok quindi un po' fino tipo come una specie di torcia no una piccola fiammella sì eh sì esatto acqua leggera acqua leggera e scusa ora che cosa cosa vuol dire acqua leggera scusa ci sei ma non tanto lontano ci sei abbastanza vicino ok adesso è proprio una fiamma che si sta ok si sta alzando un pochino però Chiara mi raccomando qui acqua lì si è senta la fiamma che schifo è qua ancora acqua ancora acqua no come fuoco fuoco aha eh che schifo è stato qua che me l'hai dai era molto scontato Chiara in effetti adesso adesso ho creature del male sceglierò sceglierò vai tu Chiara allora praticamente mi devi dare un piccone un tuo oggetto io lo devo nascondere la mia amata spada è che questo è un bell'oggetto è chiaro ho un nome con la spada sì 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 poi guardate pure gli incantamenti sono bellissimi adesso tu non guardare chiaramente perché se no eh mi dispiace Gabriele non la puoi avere eh io sono ancora povero cioè in realtà i diamanti ce li ho però non sono abbastanza per fare e che caspita se ne fregge te l'ho chiesto per caso te l'ho chiesto eh te l'ho chiesto dimmi un po' Gabriele ah io no seriamente a voi io io basta io me ne vado a quel paese no no e mi seguite per favore a quel paese vai 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 allora eh Chiara tu non guardare mi raccomando no no sono alla prigione ok sarebbe assolutamente illegale se tu guardassi io ti dovrei bannare dal server oh dio vera si però scusate potete non rispondere cioè se parlo con Chiara risponde Gabriele risponde Chiara domanda risponde Chiara a meno che Gabriele non diventa Chiara no esatto però Gabriele non è Chiara chiaro chiaro allora io sto trovando un posto molto caruccio devo dire è secondo me anche abbastanza difficile vediamo un attimo voi sapete tutti dove dove è finito eh sapete tutti eh voi avete visto tranquilli che noi ci intendiamo qua adesso vediamo se la Chiara riesce a trovare il suo la sua mitica spada che in realtà sono stato un po' cattivello forse no no forse sgucciolo quel posto sgucciolo traduci Angelo cosa vuol dire vediamo sentiamo un po' è brutto è brutto è brutto nel senso che è difficile o difficile perché è difficile ma è sì 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 troppo difficile eh mi dispiace allora siete dei deficienti che caspita siete restati là che adesso adesso lei praticamente sa dove allora da ora in poi nessuno più mi segue eh va bene se adesso lei si girasse se adesso lei si girasse vedrebbe la direzione in cui è e non va bene ok infatti chiara è brava ok allora forza adesso possiamo iniziare Chiara ti puoi girare posso? Sì 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 vai 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 ok scegli una direzione e lì sarà la tua insomma il tuo posto dove andiamo a prendere di qua? No assolutamente acqua completamente l'oceano allora qui si intensifica un pochino diventa un po' l'acqua tiepida ma comunque acquazzone acquazzone tiepida no 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 acquazzone Proprio acquazzone potente la tempesta sì 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 assolutamente troppo è acqua l'acqua diventa tiepidina tiepidina in effetti no quasi inizia di nuovo è acquazzone totale totale di luglio ghiaccio adesso è fuochi no vabbè fuochi ero cioè sempre sempre acqua tiepida però comunque chiara ti sei sempre avvicinando no 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 acqua acqua qui non c'entrava una piscina eh esatto esatto anche perché sarei stato stupido nasconderlo sempre in casa mia cioè va bene pazienza qui beh ti stai avvicinando devo dire acqua tiepida eh tunisiani voi cosa ne dite no 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 acqua acqua con il ghiaccio proprio dentro che si sta cristallizzando ok 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 stai andando più o meno nella direzione giusta però comunque ancora acqua ancora acqua ok fuoco fuoco ti stavi avvicinando nella direzione giusta chiara te lo dico era esatto eh avevi capito nella direzione giusta 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 acqua tiepida tiepida e sta sempre diventando più acqua tiepida però ancora qua è sempre acqua e io te lo dico no 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 qui aveva sempre acqua no 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 la fiamma non si accende proprio eh ok l'acqua si sta forse no stavo per dire che si stava evaporando ma poi tu hai cambiato dire eh eh è giusto l'acqua si sta evaporando si sta evaporando l'acqua tunisiani voi lo vedete eh niente qua si sta accendo una fiammella è una fiammella è sempre fiammella sempre fiammella qua è la casa di antonix molto bella antonix molto bravo però nessuno ti ha rubato il piccone io te lo ricordo no perché lui gli vengono le paranoie ma probabilmente è morto nella lava il piccone comunque comunque sempre fuoco ma non mi pare che qua cioè non non è qua cioè non è dentro la casa di anto possiamo dire che è vicino quindi sei sempre fuocherello comunque sempre fuocherello e comunque nei paraggi no nei paraggi ok fuoco è fuocone fuoco sta bruciando il sole l'ho trovata brava eh beh beh sì sì allora adesso chi è che nasconde cosa no 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 gabri non se fai questi versi non non sei tu scusa 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 eh 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 esatto allora adesso facciamo un ultimo round anche perché poi sennò dopo mi sa che dura troppo e io direi che devo rifarlo io perché secondo me è più bello questo gioco quando io lo cerco capito quindi adesso mi nasconderò voi mi ruberete l'ascia e me la nasconderete in tre secondi tipo mentre io in tre secondi mostro ai dionisiani la caverna che ha costruito gabri guardate qua vabbè non è completa cioè vabbè chi se ne frega comunque è bella comunque qualcosa si deve vedere no gabri sennò io cosa faccio guardo il muro pixelato di minecraft ma perché sono aperte entrambe le porte è buggato è tutto rotto secondo me c'entra con che senso si ha pronunciato con quella parte là del mondo corrotto tipo no vabbè potrebbe essere come potrebbe non essere ma comunque scusate chi è che sta nascondendo eh dimmi se vuoi io ho già nascosto ok perfetto dimmi un po' in chi dire allora vai allora vai così ok fuoco acqua tiepidissima ok perfetto l'acqua sta fremitando fuoco 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 ok io sto cercando di capire dove mi stai ardendo tra un po' vai nelle fiamme vabbè ma scusa ma ma no qua c'era una pala scusa un attimo eh ma vabbè ma me l'hai nascosta qua ma dai ma sì sì cioè scusa ma ma era troppo scontato ma praticamente ho scelto una direzione e vabbè ma scusami e te l'ho fatta facile te l'ho fatta facile no forse avrei dovuto far un po' finta no ma io sono autentico con i dunisiani non devo far finta assolutamente allora adesso visto che questo round è durato poco direi che tocca chi è che vuole fare fra gabri e d'angelo ma fede è morta ciao fede è esclusa da questo video ah perché eh lei si purtroppo è esclusa perché ci saranno delle difficoltà diciamo su e praticamente gli è entrato uno scarafaggio in gola ad unisiani dovete sapere oh dio e piano piano gli sta mangiando le corde vocali no e adesso c'è il medico che è là nella sua gola che cerca di tirare lo scarafaggio vabbè insomma diciamo che lei mangia diversi tipi di scarafaggi però questo un po' di ragni un po' di insetti sì sì diversi tipi un po' più grandi un po' più grossi insomma comunque ah quindi vuoi che ti nasconda la tua pala eh è la mia pala ho rubato la pala d'angelo forza allora vai lì vai lì ok perfetto adesso non guardare c'è compagnia sì 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 chiara fammi tranquillamente compagnia però poi dopo seguimi allora chiara tu hai qualche qualche suggerimento certo certo qualche suggerimento ok fammi vedere fammi vedere o chiara ah ma non pensi che qua lo veda lo veda perché secondo me qua lo vede tu chiarissima ah hai rubato ma ce l'avevo già io la cassa che ha fatto cioè volevo dire ops ho detto una brutta parola mi sa vabbè duniziani a volte purtroppo può capitare spero di ricordarmi di taglia di mutare nel caso scusatemi ok ti ti do la pala di angelo che no io gli ho rubato io chiaramente ma non hai detto che avevi una eh no no era una pala una pala ma io non ci credo vabbè no 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 comunque ma che stai facendo io non sto capendo chiara però puoi parlare forte almeno ma io anche non sto capendo ah 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 capisco ecco cosa vuole fare la madonna questi polli eh però eh come vuoi oh cazzo inefficiente non ci credo ops cambiamo cambiamo posto cambiamo ok allora cambiamo un posto vabbè vai 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 ok niente abbiamo completamente cambiato posto adesso siamo in una roba pazza è la fine è la fine è la fine è la fine no infatti chiara qua non è possibile mettere ma perché io l'ho già capito no se l'hai capito sei un no no abbiamo cambiato sei molto bravo però non è più quella dei polli te lo posso assicurare angelo infatti è molto più distante saremo solo stupidi saremo solo stupidi esatto vediamo un attimo vediamo un attimo ok aspetta no non ti puoi girare ancora perché sto se no poi vedi la direzione non va bene perché perché poi chiaramente eh non è giusto è troppo easy poi poi è troppo easy troppo easy veniziani voi avete visto tutti quanti il posto dove era adesso tutti quanti testimoni ok esatto allora angelo puoi girarti ciao ok ok perfetto mi dà qualcosa da mangiare che ho due cosce tieni eh la mia 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 perfetto perfetto vabbè allora part sì 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 tu puoi tranquillamente iniziare allora direi che acqua tiepidina più o meno eh abbastanza la direzione è verso la fiammella esatto la fiammella assolutamente no assolutamente acquazzone 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 ok acquazzone ok fuoco 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 no 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 sì 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 non è fuoco fuoco sì 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 fuocherello ok ok pochissimo sì fuoco ardente proprio fuoco eh la 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 oh eh sì hai trovato il posto porca miseria angelo mamma mia non lo scavaremo no 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 la giusta ti banno eh ti banno allora allora diciamo che c'eri quasi ah mi piace che siamo confusi con la torcia ah porca miseria è vero perché la torcia è fa fuoco ah che peccato angelo quindi non è di qua non è di qua purtroppo eh mi chiedi no che schifo che schifo vabbè allora vai 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 ok adesso acqua tiepida devo dire abbastanza ok acquazzone totale se vai qui dentro è vietato è un tempio sacro esatto esatto nessuno può entrare nella casa di Tomis purtroppo eh sì fuoco assolutamente fuoco eh la 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 sta diventando brucia tipo il tornado che fece silente nel 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 no cosa stai facendo è acqua esatto assolutamente acqua assolutamente acqua completa stai andando completamente fuori posto e l'acqua più dove stai andando eh prima di tutto siete voi che dovete seguire me prima io non capisco no no lei è di qua mi hanno seguito ma perché ma che c'entra ma perché ci vediamo ogni passo che fai infatti perché sei tu quello però dovete seguire me eh puttacchioni eh scusa ti ho detto tornado di fuoco qua dentro tornando sì proprio il tornado che fecesi lente no con la bacchetta i draghi proprio sì 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 è un fuoco che proprio eh di nuovo acqua ghiaccio e mi spiace eh siamo confusi di nuovo erano le torce di nuovo erano le torce vabbè dai adesso ti dico la strada giusta vai vai allora fuoco 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 ok sì fuoco fuoco io faccio fuoco non ci credo acqua acqua sei stupido perché non è che cioè l'avevi capito sin da subito mica possiamo rimetterlo lì no dai polli cosa stavamo facendo le finte scusa ok dai fuoco fuoco eh fuoco 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 e vabbè l'ha trovata che schifo chi l'avrebbe mai detto porca miseria ma infatti c'è ok angelo ha ritrovato la sua pala tutti quanti felici e contenti no ok cos'è non poteva vivere senza la sua pala sì ebbè purtroppo a volte serve serve la pala eh chissà cosa scusate io ho sentito una cosa strana che non voglio mai ho sentito sì fede chi è che ha un figlio c'è la fede il figlio fra poco perché lei è un figlio tutti gli scarafaggi va bene insieme ho un figlio scarafaggio mezzo uomo scarafaggio no sì 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 dovevi è andato uno scarafaggio perché eh chiaro sono mutata ah ma non era lei vabbè chi era il bambino forse sarà stato è un figlio è quello di Gabri perché Gabri e Fede Gabri e Fede Gabri e Fede hanno fatto un figlio Gabri piace la ciambella quindi Gabri e Fede Gabri e Fede forza sì sì beh oppure Gabri e Sasso sì eh gli finisce Gabri piace il mestolo di Angelo è il mestolo quello che si prende per la zuppa no Duniziano sapete quella tipo chiara chiara zuppa dai vabbè insomma ci siamo capiti Duniziani spero che questa modalità vi sia piaciuta è una nuova modalità mai vista quanto Minecraft se mi venite ancora una volta addosso io vi vi tolgo vi ah 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 ho fatto come il mostro di Loch Ness Duniziani ah wow Gabri si è perso perché lui lo sa ah no 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 non si è perso vabbè siete tutti qua ciao comunque cioè nel senso lasciate like iscrivetevi al canale attivate la campanellina scrivete se volete vedere ancora un'altra partita assolutamente di questa di questa modalità e noi Duniziani ci vediamo al prossimo video ciao 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 cosa ciao scusa ma che ci hanno messo mezz'ora avete messo oh sento ci vediamo al ciao esatto